Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Oh, continua a staccarsi sto cavo di merda, porco diaz, porco, maiale. Cosa vuoi fare? Vuoi parlare con Giolami? Cazzo ne so, sono tutti Giolami. Ma come me ne sono uscite? Come me ne sono uscite? Capisco, sinceramente. Non capisco questa cosa. Vabbè, dimmi tu cosa vuoi fare? Vuoi piccole idee? Dai, siamo sinceri. A me piacciono i ragazzi feticisti dei piedi. Scusa? Mi piacciono i ragazzi che sono feticisti dei piedi. Non troppo, non esageratamente, perché sennò scoppiamo. Però è una cosa romantica a mio parere. Che origini hai? Posso chiedere? E oltre questo? Grazie. E' una cosa liquida, non è un inquinante. Sappiatelo, tutti quanti, signori di Twitch, chiunque sia all'ascolto che possa... Vuoi fare un carnone con noi? No, ragazzi no. No, no, no. Eh bro, non è che è bannabile che... Auguri! E daje! Alla festa di Cristo. Che schifo. Che schifo. È la mia mascherina questa. È la mia mascherina. No, vabbè, scusate. No, bro, però adesso non posso, sto facendo la lavoro. Dove è stato? In Piazza Verdi? Sì, sì. Dai, dopo vi raggiungo. No, no. Ma no, era per liquidarli, non voglio davvero farmi una canna. No, 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 la droga. Mai mischiarsi con l'ex, amici, conoscenti, eccetera, eccetera. E questa cosa mi fa molto piacere che tu la dici. è già, a meno che non si chiamino Valeria Vedovatti. Ma questo è un altro discorso. Veramente. Vabbè, non hai più chietto, bro? No, no, no. No, no, nel senso, ok, no. Sì, pensavo fosse... Cioè, è fatto bene. Sì, ci sta. Sì, sì. Insomma, ho visto un attimo il mio canale scorrermi davanti agli occhi. Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare fra loro gli animali. Come fa il cane? BAU! E il gatto? MIAO! L'asinello? I-O, I-O! La mucca? BUU! La rana? Qua, qua, qua! La pecora? Mbè! Deve avere degli amici che non li rappresentano per... Fanno cose che non si dovrebbero fare solo per avere un gruppo di amici. Ma fate quel cazzo che vi pare, porco Giuda. Ma se c'avete un cervello, ma che cazzo ve ne frega? Ma usate sto cervello del cazzo che c'avete e fate quello che vi pare. Ma che me frega se... Rimanete soli, ma rimanete soli. Ma che cazzo ve ne frega? Ma scusate, ma è meglio rimanere soli? In camera propria? A guardarsi porno tutto il giorno? Senza parole. Ma adesso risponde, adesso risponde. Ma che numero hai chiamato? Ah, se no non c'è Uber. Non gli puoi mandare un Ubertesimo? Sì, aspetta. C'è Uber a Bologna? Ah, però aspetta, c'è il tuo nome poi, siamo i buratti. Ah, ce l'ho io e Uber, aspetta. Mi si vede ancora. Te lo mando io, così lo pago direttamente io. Dove sei? No, 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 no. Tanto sono un imprenditore, posso permettermelo. Ma no, 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 te lo pago io. Dove sei? Eh, aspetta... Ma Felix, perché è moderatore? Via! Via, 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 pulizia, pulizia. Felix, puoi al cazzo? No, scherzo. Ma però Felix, dimmi tu, cioè, non preferivi essere VIP? Cioè, solo ti lascio il moderatore, eh. Però vederti VIP era più carino. Dimmi tu, eh. Ah, devo cambiare la categoria. Ah, no, in ASMR. Va bene. Eh? Vai. Metto categoria ASMR, va bene. La voglia no, la voglia no. Potrò per caso farne. Allora. Tu, Cristina, lo conosci il Masseo? Spero di no. Oddio, sei quello che bestemmi, adoro! Dio. Adoro, adoro. Adoro, Dio canti, giuro. No, ma in un momento non mi sembra più opportuno. Giuro, ti giuro, porco Dio. Io bestemmio come... Io sono Veneta. Io sono Veneta, porco Dio. No, dai, no. Porco Dio. No, no, no. Scusami, scusate. Chiedo scusa ai chirichetti che mi seguono e che stanno per fare la comunione. La cresima, ragazzi. Ricordatevi che Dio aiuta finché non lo... Ho scandalizzato un tavolo. C'è il mio cuginetto che guarda. Non ti vediamo, Cristina. Quando? Ti devo fare la testimonia. Raga, non mi vedo nessuno. perché poi scrivono la burla, la comicità. È vero, avete ragione, non fa ridere. Quindi vado ad aprire Valentina. Ma qualcuno mi può spiegare questa battuta della burla? Non lo so, è nata da David. Arrivo. Da me. Da quando? Comunque, David, tu vieni a Milano, quindi. Sì, mercoledì sto a Milano. Così ce lo vediamo pure tutti insieme. Sì, 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 assolutamente. Noi andiamo anche sui navigli. Qualcuno tecnico sta andando a fuoco la caldaia. È a 100 gradi la caldaia. C'è qualche tecnico, per favore, non so più risolvere questo problema. Non sto scherzando, non sto scherzando. C'è la caldaia che c'è scritto 100 gradi e dovrebbe stare sui 60-70. E c'è la pressione che è tipo altissima. È a 4 di pressione. Non so neanche come faccia a funzionare. C'è qualcuno tecnico idraulico, per favore, può scrivermi su Instagram in questo momento perché sto per impazzire. Qualche tecnico, per favore. Dì, non scherziamo. Mi piacerebbe avere il tuo membro in bocca. No, 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 no. Non giocare, bro. Mi piacerebbe avere il tuo cuore in mezzo. No, no, no. Yeah, bro, I'm sorry, perché I'm leaving in Bologna a two days and I... Perché lui poi è da molto di più. E se la prende il ragazzo che sta per entrare, la responsabilità. Adesso te lo faccio conoscere. Tu non vuoi, scusami. No, io sono un po'... Sono un po' per le mie. Credo di avere anche un piccolo problema di ansia sociale. C'è tutto sto coso che mi si sta a mosciare. No, madame, madame, ma che bestia, figa. No, ciao. No, era la cuffia che si è mezza rotta perché... Come va? Tutto bene? Bene, tu? E io, a parte la cuffia che ormai è andata, tutto bene. Quindi ha detto che tu ti prendevi la responsabilità di spiegarmi come funziona Twitch. Che ha detto? È l'altro ragazzo. Ah, green sicuramente avrà detto perché... Cucciole? No, no, dai, no, brutto. Io tipo quando mi dicono qualcosa c'ho... Ah, parco Dio! Così... Faccio per strada la...